Ave Quiriti, ben ritrovati in un nuovo video, ci sono delle novità dal fronte, andiamo subito nel settore di Kupiansk, qua i russi si sono ancora spinti verso occidente, verso il fiume Oskil, partendo da questa località, dal villaggio di Pisciane, i russi stanno cercando di arrivare appunto al fiume. Come potete vedere la situazione è molto chiara, i russi stanno cercando di creare un saliente dividendo le truppe ucraine presenti a est del fiume Oskil. Quindi è probabile, per ora non abbiamo ancora informazioni su ammassi di truppe, su concentrazioni di truppe, di forze, di carri armati, equipaggiamento e quant'altro da parte russa, però i russi potrebbero riniziare a spingersi in modo concentrato, in modo comunque consistente, sul villaggio, sulla località di Sinkivka e quindi poi cercare di minacciare Kupiansk o comunque arrivare al fiume Oskil. In questo modo gli ucraini in questa zona, tra l'altro qua in questa zona ci sono poche località, c'è un'altra Pisciane, manco a dirlo, ci sono alcuni villaggi proprio sul fiume, però ecco si creerebbe una situazione che dovremmo valutare in un video ad hoc, perché è una situazione che merita di essere analizzata come si deve. Tra l'altro poi bisogna anche capire dove sono collocati i ponti sul fiume Oskil, bisogna capire quali sono stati distrutti, molti sono stati distrutti. Se adesso andiamo per esempio qua su questo ponte, come potete vedere, lo vediamo dalla geolocalizzazione da Google Maps che il ponte non è integro e molti altri hanno questa stessa condizione, questa stessa situazione. Attendiamo comunque aggiornamenti, soprattutto sull'avanzata russa, verso occidente da Pisciane. Andiamo più a sud, andiamo nel settore del saliente di Oceretine. Qua come potete vedere ho mantenuto gli stemmi delle due brigate più coinvolte negli ultimi giorni, cioè 31esima brigata e 47esima brigata. La situazione della 31esima per ora non ha aggiornamenti, quindi continua ad essere critica. Ci sono almeno due battaglioni, il primo e il terzo, che stanno in questa zona, stanno cercando di mantenere delle posizioni e hanno il rischio di essere accerchiate dai russi, da nord, dallo Zuvatske e da sud, da Progress. I russi stanno completando la presa di Progress e sono anche arrivati alle porte di Vovce, questo piccolo villaggio che sta immediatamente a sud di Progress. Quindi i russi stanno cercando di creare anche qui un accerchiamento, su questo accerchiamento non abbiamo notizia, a dire il vero, su Yevenivka. I russi sono avanzati su Yevenivka, ci sono dei combattimenti, però da quello che sappiamo gli ucraini sono ancora in questa zona. Potrebbero ritirarsi da un momento all'altro, ma se gli ordini sono gli stessi, arrivati per i due battaglioni della 31esima brigata, allora potrebbe veramente crearsi una situazione poco piacevole per i soldati ucraini impegnati in queste due zone, in questi due settori. La 47esima brigata sta cercando di ripianare un po' la situazione, sta cercando di fare quello che può, abbiamo delle geolocalizzazioni di droni russi che prendono di mira i corazzati della 47esima brigata, quindi sta fallendo in quello che è per ora il suo ruolo di tappa buchi. Vi ricordo che la 47esima brigata è stata utilizzata sempre in questa sezione, in questa zona del fronte, come salvagente, come unità veramente di salvataggio, come riserva tattica d'élite, perché comunque la 47esima brigata è una delle unità migliori delle forze armate, dell'esercito ucraino. Vi ricorderete il suo lavoro, la sua difesa nella località di Berdisci, immediatamente a ovest di Avdifka. Quindi diciamo che la 47esima ha sempre dimostrato di saper fare il suo lavoro, nonostante le perdite, però quelle ce le hanno tutte le unità impiegate sul fronte in questa guerra. Però stavolta la 47esima evidentemente o è arrivata tardi, perché come diceva il messaggio di Deep State che abbiamo analizzato nel video di ieri, c'è stata una ritirata fatta male da un'unità di fanteria e quindi poi la 47esima è arrivata tardi. E quindi ecco, questa è la situazione, i russi, come ho detto, stanno spingendo a sud verso Vovce, vedremo quali saranno gli aggiornamenti, vedremo quali saranno gli sviluppi. Come ho detto qua, ci sono due battaglioni, quindi ci sono diverse centinaia di uomini che se non riceveranno l'ordine di ritirarsi, verranno probabilmente catturati dalle forze armate russe, che sono presenti a nord e a sud. Come ho detto, i russi stanno spingendo in tutto questo settore, i russi sono riusciti a prendere Novoselivka Persha, abbiamo una geolocalizzazione in questa sezione del centro abitato, e quindi ecco, i russi adesso sono riusciti a prendere questo villaggio che è un pochettino più grosso della media del circondario, dei villaggi del circondario. Adesso i russi vedremo cosa faranno, ci sono delle fortificazioni piuttosto importanti qua sul fiume, sul fiumiciatolo Vovce, ci sono come potete vedere trincee, quale possiamo vedere dalla nostra mappa, ci sono anche qua trincee, e sono delle fortificazioni, sono delle posizioni che stanno a presidiare la viabilità verso occidente. Quindi vedremo qua se i russi attaccheranno in modo frontale, come hanno fatto spesso in questa guerra, o cercheranno di passare ai lati. Vedendo la situazione che si sta sviluppando a nord, è molto più probabile la seconda, o anche è più probabile che facciano entrambe le cose. Personalmente penso che quando si creano queste zone, questi possibili accerchiamenti, il fronte non è messo bene. Parlo ovviamente per i difensori. Di solito quando c'è un fronte organizzato, delle difese preparate, comunque vedete, adesso andremo più a sud dalle parti di nuovo Michael Ifka, Costantin Ifka, si vede il fronte a una certa forma, tra virgolette, a una certa morfologia. In questa sezione del fronte notiamo invece una continua infiltrazione, continue puntate dalle unità russe, quindi c'è una situazione che si sta evolvendo più velocemente rispetto ad altre sezioni del fronte di questo conflitto. Terremo monitorata la situazione su questa sezione del fronte perché potrebbe avere risvolti piuttosto importanti, non solo da un punto di vista tattico, ma addirittura da un punto di vista operativo. Detto questo andiamo più a sud, andiamo sulla notizia del giorno. C'è un grandissimo attacco da parte russa, dico grandissimo perché rispetto agli attacchi che abbiamo visto a livello squadra, plotone, questo è un attacco a livello battaglione. Abbiamo quasi 60 veicoli, tra carri armati, veicoli per l'afanteria, veicoli corazzati per l'afanteria, moto coinvolte, motociclette, un attacco veramente importante con anche 200 erotti uomini dell'afanteria russa sui soborghi sudorientali di Kostantinivka. Qual è la situazione qua? I russi stanno cercando di minacciare la 0532 dopo essere stati ricacciati da Vuledar. Nel 2023 i russi da Pavlovka avevano attaccato in modo frontale Vuledar e non erano riusciti a prendere questa località. Adesso i russi stanno minacciando la 0532 in diversi punti in questa zona di campi e stanno anche minacciando Kostantinivka. Qua però gli ucraini sono presenti con artiglieria, droni, stanno veramente facendo di tutto per non far avanzare i russi. E in questo attacco effettivamente i russi hanno avuto diverse perdite, hanno avuto diversi carri armati e veicoli per l'afanteria distrutti. Quindi i russi hanno avuto perdite, però probabilmente potrebbero essere stati in grado di lasciare, di sbarcare degli uomini in questa sezione della periferia dell'abitato di Kostantinivka. Dico probabilmente perché il video che abbiamo alla geolocalizzazione è della 79esima brigata ucraina che ha detto che l'attacco è stato respinto. Però molto spesso le fonti ucraine, ma entrambi le fonti, quando dicono che magari un attacco è stato respinto poi, magari omettono di dire che dei soldati sono stati scaricati. E infatti poi, poco dopo, qualche giorno dopo, vediamo dei combattimenti in quello stesso centro, abitato in questo caso Kostantinivka. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno dei combattimenti. Al di là di questo, è veramente stato un attacco importante che ci porta evidentemente a pensare che i russi stanno aumentando. Abbiamo visto un attacco del genere solo a Tonenke, a Chasiviara all'inizio, ad aprile di quest'anno. Evidentemente i russi stanno iniziando ad aumentare, quando possono, l'intensità, anche a livello numerico, dei loro attacchi. Questa è una zona particolarmente piena di droni, soprattutto da parte ucraina, quindi è stato anche molto rischioso questo attacco. È una zona in cui non è facile avanzare per i russi. I russi hanno avuto diverse perdite sul nuovo Mikhailivka. È una zona, come ho detto, rispetto a Progress, rispetto a Salenti di Oceretine, qua gli ucraini sono sicuramente sistemati meglio, anche da un punto di vista di artiglieria e quant'altro. Vedremo se la situazione si evolverà in un contesto urbano e quindi avremo la battaglia, l'inizio della battaglia di Kostantinivka. Bisognerà capire se i russi daranno seguito a questo attacco. Ma a questo punto, dato l'ingente numero di equipaggiamenti, di uomini coinvolto, credo che ci sarà un seguito in questa zona. Detto questo è tutto, ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto dal vostro Davide.